Ma andavi giù o grattavi? Eh, tutto. Eh, non mi diceva, sai che non fa? Ma... Ma cosa c'è questo rumore? E quello ha detto che gratta, e quello ha detto che gratta! E così? Ma che tu lo sentivi, no? Sì, sì. Ma a un certo punto... E appunto, se ti faccio la barba, perché poi a un certo punto ci sono anche le fronte. Guarda. Guardala qua, mamma mia! Ah! Vabbè, il rumore è meraviglioso! E lui? Meraviglioso! Ebbene! Non si intende! Non si intende! No, 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 no! E' sopra! Passa la testa! Infatti, me l'avete chiedendo... E' andato giù? E' andato in campo, no? E' andato nel caso! E' quale? Ciao! E' andato giù! E' andato... E' andato! E' andato! E' andato! Grazie a tutti.